buongiorno a tutti life is strange episodio 13 andiamo a vedere cosa combinano chloe e max al diner vediamo se riescono a cavare qualcosa a cavare qualcosa a sapere qualcosa da frank listen when i went through david's laptop i found pictures of rachel and frank being more than friends right no way max she was just posing to tease frank if you're not gonna believe me why don't we check out what frank has in his rv what's that gonna prove frank has rachel's bracelet what else does he have in there mother fucker better not have anything for his sake let's check the door frank it's a waste it he sometimes forgets to lock it i can't believe you hung out with him not anymore we have to be casual ninjas here e cloy aperto per te ok here's the plan i'll go to the diner and distract frank by telling him i have this money but he needs to come with me then you come in and rewind so frank doesn't see me then you can tell frank he needs to check out his rv and then you rewind after you get the key and uh and ok va bene chloe i got this i'll be right back va bene don't let my epic plan get in the way of yours i'll try to scrounge up a scooby snack to distract his mangy mutt now to find a quick and easy way to snack frank's keys dunque and let's see a little bit in giro va qua abbiamo sempre il solito pescatore chissà se ci dice qualcosa di nuovo mi è arrivato un messaggio da mio padre ma ben gli fa dice che la madre è fiera e anche lui e se vuole tornare a casa insomma se vuole frequentare un altro dicevo bene va bene a taylor è vero va bene eh sì poi vediamo anche questa cosa qua eh vi ricordo che mancano soltanto due capitoli e cercherò di farli tutti insieme buon morning how are the fish today don't ask first the snow they're an eclipse what's next the tornado i don't think it could be like climate change or something i'm a fisherman no scientist i know the sea is warming but this is something new maybe worse what do you mean worse you knew it was going on with the fish around arcadia bay vabbè tutti gentili in questo gioco comunque allora qua cosa abbiamo anche qua abbiamo degli uccelli morti di qua non c'è niente qua c'è un altro uccello qua anche c'è qualcosa che non quadra guardiamo qua guardiamo qua un altro uccello questo qua c'è un petto giallo al petto giallo Tornado, snowfall, eclipsi Ah che bel camion, mi dice se posso fare una foto, proviamo No, non possiamo Perché? Andiamo a sentire il perché non vuole farmi fare la foto Ma buongiorno Simpatico Giornataccia? Vero Vogliono andarsene tutti da sto posto comunque No, immaginavo Va bene, torniamo indietro nel tempo Sì perché non mi fa fare la foto Quindi proviamo a tornare indietro nel tempo Sempre lento Ok, ritorniamo dal camionista e proviamo a dargli le notizie che mi ha dato prima Vabbè Ecco, nominiamo il camion Rachel Amber 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 Va bene, facciamo la foto allora. Cos'è? Cos'è ominoso. Guarda, è la foto di un uccello con le formiche intorno che sembrano a formare un tornado. Ecco, sembrano formare un tornado, quindi mi sa che il tornado non è così poi lontano da quanto pensiamo. Qua dietro c'era la barbona, mi ricordo. Non è che ha delle notizie nuove. Uccello morto, uccelli belli però che sono. Eccola qua. Parliamo con lei. Buongiorno. 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 Max. Can I get you something from the diner? I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof. Kate. Nathan. Sì. 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 Allora, io andrei... ecco. Velocizziamo le magie dell'editing. Graffiti su Su Kate Allora Facciamogli uno scherzo dai La Tansionna Quello che fai Parliamo Perché vedo che altro non posso fare Vabbè il piatto penso che lo rovescerei E via dicendo No ma fine Tranquilo fine Va bene Va bene Eh sì è l'unico motivo L'unico modo L'unico modo Di là cosa mi dice Perché città strana Kate Marsh David Andiamo di là cosa c'è Nathan Prescott No Kate Dai facciamo Kate Proviamo Città strana Davide va bene andiamo da Nathan a sto punto no torniamo dove cacchio è Nathan? no 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 droga in vendita no 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 ok ok torniamo indietro e andiamo da Frank e andiamo da Frank a questa droga no torniamo dal poliziotto e usiamo e usiamo tutto ciò che abbiamo acquisito finora salto salto perché sono qua è lunga la cosa allora Nathan si che fronte alta che ha questo polizio torniamo indietro e parliamo dell'accordo grazie sarà di là? esatto allora allora andiamo da Nathan e con le informazioni che abbiamo del poliziotto proviamo a chiedergli qualcosa eh si Rachel informazioni del poliziotto ok indietro dai torniamo indietro perché c'è qualcosa qua da ecco allora vediamo patto di sangue patto di sangue nominiamo questo patto di sangue e saltiamo tutte le cose sarà di là non 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 buon io direi che adesso facciamo un recap e andiamo da frank andiamo indietro andiamo indietro torniamo indietro ok saltiamo foto di rachel prendi le chiavi e torna indietro torna indietro torna indietro devo vedere fino a dove arrivava ma vabbè giustamente ok adesso torniamo da clui entriamo nel camper di frank usciamo da qua quella che sembra più fatta di tutti è proprio max voglio dire c'è gli occhi rosso che mi manda un messaggio vittoria vediamo cosa vuole pensavo fossi pronta per forza ok se è natale emo di merda da non voler nessuno adesso con lui ha vabbè tutti insulti ok e l'accusa di mettersi in mostra quando ha salvato Kate però intanto Kate è viva se era per voi che riprendeva il cellulare e basta si buttava e buonanotte ok Chloe buongiorno buongiorno 3 ovviamente lo lancerò nel parcheggio non sa mai che lo prendo sotto ok dai andate su andate a vedere i dubito che frank sia un pervertito penso che oh we could cruise everywhere in this bad boy can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond yes we'd be tearing up the highway and you'd probably want me to kiss you again Chloe we're in a schedule we need clues about Rachel I know just daydreaming eh datti una mossa su un coltello con della pizza che sembra disegnata da un bambino di 5 anni anche se non è Cosa? Graffiti? Eh beh Può darsi Libro Eh potrebbe essere un'idea Allora guardiamo Ok Proviamo ad aprirla ma Immaginavo credenza C'è niente No more secrets Poi Condotto di ventilazione Ma anche questo sarà chiuso Magari il coltello Aspetta vediamo se c'è qualcosa qua Il coltello era di là dove c'era la pizza disegnata Eccola qua Quante volte ho detto ok in questo video Vediamo se riusciamo ad aprire il condotto Ok Appunto Prendiamo il quaderno Quello che è insomma Oh man Rachel and Frank's dog Eh l'ho detto Secondo me Spero questa è la prima cosa Che leggerei appena svegli Mi spiace per la scorsa notte Una stronza Sì i due stanno Stanno insieme Stavano insieme Comunque in ogni caso Stavano insieme Qua Frank's are in case Facciamo vedere questa cosa va Ma mi sa che Chloe è un po' gelosa Nell'altro senso Che nebbis Qua Che sì Conво Qua Qua Grazie a tutti. Non è colpa di nessuno, dai, Chloe. No, non te ne frega niente, sinceramente. William. William? 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 You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does. No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here, alive, with me, and that is no accident. You're right, I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me, and Rachel needs you. No, you're right, I don't want to hear it. Look, Max, it was wrong. It's a bad thing. But she's wrong with Rachel, she was a little bit OK. But, she was too bad at all, all. But she told her the rest of Rachel's house also in love. so if she was so bad with Rachel, so she wasn't good. soprattutto per il fatto che lei si vedesse con Frank cosa è accaduto? cosa diamine è accaduto? anche le foto parlano adesso va bene proviamo cos'è? cos'è successo? ma tornata indietro nel tempo ma proprio tanto tempo ma Chloe come eri piccola Max non sembrava un po' è un po' ok Chloe give me the thumbs up or thumbs down allora fammi guardare un po' in giro ok facciamo una foto perché se sono tornata indietro con quella foto là devo avere la possibilità di tornare indietro anche se ti hanno un'idea questo vuol dire che ha cambiato gli eventi la farfalla lì allora adesso andiamo non posso uscire di casa perché lì c'è una specie di nebbia e quindi qui abbiamo facciamo il telefono ok col cervo con il cervo notiamo il cervo sempre in mezzo disegna allora cerchiamo le chiavi ho saltato tutto il pezzo di tornare indietro eccetera perché va bene così e adesso andiamo a nasconderle perché l'ho fatto 32 volte e ha un cicalino noi lo buttiamo nell'acqua e il cicalino non funziona più brava consiglia l'autobus abbiamo salvato la vita ma adesso vediamo le cose che sono cambiate quindi non c'è più il funerale di William ma c'è la famiglia ancora riunita non c'è Chloe dispersa nel mondo ma c'è Chloe insieme a William suo padre non c'è più la coppia sposata di David e Joyce ma ci sono ancora Joyce e William non c'è la minaccia col coltello e compleanno ma ci sono le chiavi della macchina regalate a Chloe per il suo compleanno va bene dove siamo? nel... oh signore quindi qua noi capiamo che che praticamente lei è dalla parte di Victoria è con Victoria lì e con le sue pazze pazzoidi Warren sta insieme a Stella chi cazzo è Stella? vabbè non era Brooke che... vabbè 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 ma Brooke forse è quello che prende sempre le pallonate cosa è cambiato? cosa abbiamo cambiato? andiamo a vedere Chloe prendiamo l'autobus ah bene David fa l'autista di autobus vabbè non è sembra non è non è 선�ione non è ascolti non è Он ти partire non è cosa140 è altre Yah siamo st haha Sim ho uno stormo di uccelli no, era questa Brooke, eh sì, quella che è innamorata di Warren cos'è? cosa c'è? balene morte, quante cazzo di balene ci sono ad Alcadiabey? vediamo se abbiamo fatto bene a salvare la vita William o no Max Caulfield? perché non ci sono i sottotitoli qua? non è difficile da capire, era venuta per Chloe, è andata a chiamarla guarda che hai una visita non lo so quanto abbiamo fatto bene a salvare la vita a William direi che la conseguenza c'è comunque questo fa capire che non è che se evitiamo una cosa poi va tutto liscio che se potessimo tornare indietro nel tempo avremmo comunque delle conseguenze diverse ma siamo arrivati alla fine dell'episodio 3, del capitolo 3 e vi lascio così con l'amaro in bocca di vedere Chloe su una sedia a rotelle paraplegica e ci vediamo al prossimo episodio di Life is Strange e vi saluto alla prossima ciao ciao mi ha reso un po' triste questa fine di questo capitolo vediamo come andrà nel prossimo